È l'Halloween dei topo moschettieri, quindi afferrate un aglio e preparatevi per l'essere più spaventoso d'America, il Cotte Topo Alino! Benvenuti, benvenuti ragazzi, hey! Oh, caspicherina, quanto mi piace Halloween! Succedono un sacco di cose paolose, Charmobog ha dato una festa! Non è difficile arrivare a casa sua, basta raggiungere la cima del Monte Calvo! È divertente perché è vero! Guardate, c'è anche quel buon diavolo di Ad, non è così brutto come si dipinge! Lo adoro! E io ho anche saputo che c'è una gran festa al cimitero degli elefanti! La regola è O, P, S, O, e ognuno porta il suo osso! Ho tante cose da mostrarvi! Siete pregati di rimanere seduti finché il vostro mezzo non si sarà fermato! E non dimenticate la gara Banshee per il miglior costume! Il miglior costume!